Presidente Dostiglio, lei in qualità di presidente di Amare Pescara chiama a raccolta un po' tutte le associazioni della città per fare un programma comune per mettere in campo azioni comuni per il rilancio del capologo adriatico, è così? Sì, certo. Io mi rivolgo a tutte le associazioni culturali cittadine che sono tante, sportive, culturali, ecologiste, perché possiamo, nonostante conservando ognuna la propria identità, lavorare insieme per il bene della nostra città, cioè per seguire delle tematiche che stanno a cuore a tutti, liberi e lontani dai partiti politici e dalle loro bega. Noi non interessano i partiti politici, possiamo fare benissimo politica anche noi, forse anche meglio, perché siamo animati da un forte senso civico e possiamo migliorare sempre di più la nostra città, a cui ci teniamo molto. Non volete sicuramente sostituirvi alla politica, ai partiti, agli amministratori della città, ma volete dare un contributo affinché Pescara possa ancora crescere? Un contributo fattivo, tant'è vero che io direi anche da subito di incontrarci preliminarmente, per esempio nella sede dell'Associazione Culturale Amare Pescara, dove ci troviamo in questo momento, redigere tutti insieme un documento congiunto nel quale indicare il modus operandi del politico, cioè come un politico dovrebbe comportarsi e le priorità che bisogna perseguire per rendere sempre migliore la nostra città, come ho detto prima. A proposito di priorità, secondo lei quali sono le priorità di Pescara per un'ulteriore crescita della nostra città? Allora ci sono le problematiche, sono tante. Mi viene adesso in mente, per esempio, il problema dei parcheggi, del traffico. Per esempio, ho letto sul giornale di oggi che si vorrebbero creare delle isole pedonali e cose. Prima di tutto bisogna creare dei parcheggi, evitare l'intasamento, l'ingolfamento delle macchine nel centro città. E poi, dal punto di vista culturale, visto che stiamo in una società culturale, finalmente portare a termine il Teatro Michetti, anche se è piccolo per una città come Pescara, perché il Teatro Michetti è stato creato a suo tempo nella città di Pescara che contava 5.000 abitanti, era un piccolo borgo. Pescara adesso conto 120.000-130.000 abitanti, ma alla fine, tra residenti e nonna, arriviamo anche a 200.000-300.000 durante la settimana per chi viene a pescare per motivi di lavoro o di studio. Pescara ha bisogno di cultura, ci sono tante associazioni culturali che si vogliono cimentare e farsi conoscere. A volte non lo possono fare perché non hanno neanche un luogo per riunirsi e per lavorare.